Benvenuti sul canale di Non Aperte Questo Vlog Allora, oggi sono qua a farvi la recensione La reaction, la recensione, insomma quel cazzo che vi pare Di Obbligo o Verità? Truth or Dare? Obbligo o Verità? È un film di Jeff Waddle Boh ragazzi, che palla, stai per gli altri Potevano chiamarsi tutti Mario Rossi Siamo stati all'anteprima stampa di questo film Esce nelle sale italiane il 21 giugno Il film è di un regista che ha fatto praticamente solo un horror Prima di questo, che è Nickname l'Enigmista O è Nickname Enigmista Poi altri film degni di nota Ha fatto Clickass 2 e poco altro Però questo non vuol dire che sia un cane Anzi, a livello tecnico è un bravo regista Invece il direttore della fotografia Un certo Jacques Jouffret, insomma non so come cavolo si pronunci È il direttore della fotografia dei tre film della saga La Notte del Giudizio Quindi lui ha un pochino più di esperienza nel mondo dell'horror Mentre il cast è praticamente una serie di teenager, di giovani presi da una spilza di serie tv Quindi chi segue le serie tv tipo Teen Wolf, Flash, bla 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 Li riconoscerà sicuramente Praticamente la storia, senza spoilerare nulla Questo gruppo di giovani va per lo spring break Che è una vacanza dagli studi che fanno gli studenti Vanno in Messico per fare una vacanza Solo per ubriacarsi, bere, divertirsi eccetera E lì faranno un gioco con un personaggio particolare Che è Obbligo Verità Che è il famoso gioco che più o meno tutti hanno giocato alle medie, alle elementari Che poi nessuno dirà mai la verità, nessuno farà mai le cose Insomma comunque Quindi qual è il tema qua? Che poi la cosa diventa un pochino maledetta E se tu non fai quello che ti viene detto nel gioco Sono pezzi acidi Quindi questa è la storia Il film partiamo da un presupposto Perché così mettiamo la cosa di chiaro Il film non è per horrorofili Ultrasgamati Che hanno visto di tutti di più eccetera eccetera È un film per teenager È un film per giovani che si avvicinano all'horror Oppure per persone che si impressionano facilmente Vogliono provare qualche brivido Ma sono veramente ultra impressionabili Va bene per chi cerca il film sempre più spaventoso Sempre più corso Vedendo questo film mi sono sorpreso Della grandissima capacità del regista E dello sceneggiatore Girare e creare un film che va dritto Sparato come una lippa Non ti dà mai adito a Abbiocchi vari Cioè non ti viene mai da abbioccarti Perché è molto serrato Scritto molto bene Da un certo punto di vista Male da un altro Poi ne parlerò Va veloce E quindi già questa è una cosa positiva Poi detto ciò Passiamo ai difetti I difetti sono abbastanza gravi Ma allo stesso tempo Quando un film riesce comunque a divertirti E a farti arrivare alla fine Senza aver sbadigliato 500 volte Si può anche passare sopra Il difetto principale è sicuramente il fatto che La trama, la giustificazione che c'è dietro a questo gioco Più si va avanti E soprattutto nel finale Perde di credibilità Lì lascia un po' sgomento allo spettatore Che dice ma come Insomma non capisco più le regole di questo gioco E quindi secondo me In un film horror Non è che puoi cambiare le regole Perché sennò perdi di credibilità Poi l'altra pecca Che sicuramente non piacerà A chi è più Avvezzo ai film horror È il fatto che tutte le morti Anche se abbastanza cruente Non vengono esplicitate Nel senso che non si vede il taglio Lo squartamento L'amazzata Si vede Ma è In qualche modo Il personaggio è voltato Oppure accade dietro Insomma È camuffato in maniera che Non sia Troppo violento Per Non sia troppo violento È troppo impressionante E quindi per questo Che io ritengo Questo film Si è stato pensato E sia un prodotto Mainstream Per giovani Teenager Che non sono ancora pronti A guardare The Human Sentipede O La Serbian Film È tutta una serie di film Abbastanza forti E che si avvicinano Che non guardano i film horror Se no poi perdo il contatto Quindi non bisogna andare sempre Con Bulldozer Cerchè di distruggere i film In questo film qua Ci sono anche dei momenti Di tensione Molto leggeri Per chi è Più Esperto Ci sono Ci sono dei jumpscare Qua e là Insomma ci sono anche dei momenti Un filino di paura Ma proprio Quindi Io mi sono divertito Però Non è un film Che Sicuramente Metterete Nella vostra Top ten Dei Dei film horror Più belli Assolutamente È comunque Un film della Brumhouse Che è diventata Molto più nota Recentemente Perché il suo ultimo film Get Out Ha vinto anche l'Oscar Quindi Insomma Stanno crescendo Stanno crescendo Però stanno anche cercando Di rimanere Su certi Certi tipi di film Molto leggeri Molto Basso budget Eccetera eccetera Quindi Ben vengano anche questi film Secondo me Perché Bisogna capire il target Non so Ho visto tantissimi film Che avevano la pretesa Di essere Spaventosi Con tanto sangue Fatto male Tanto horror Fatto male E tanti sbadigli Quindi Cioè Allora Questo film qua Trae ovviamente La sua idea Originale Da Un cult All'epoca Poter sembrare Anch'esso Un film per teenager Un filmetto Invece In realtà Nel tempo Si è ritagliato Il suo nome Di film cult Horror Che è Final Destination Che è un film Dove comunque La suspense È costruita Molto bene Tramite la regia Ed è un grandissimo film Che consiglio A chi non ha visto Trae Ispirazione Anche dal recentissimo Gibellino Hitfollow Che anch'esso Ha una sorta Di maledizione Di gioco Insomma In cui bisogna interagire In questo film qua Obbligo verità Il gaming È ancora più forte La componente gaming Perché È bella Questa parte qua Perché comunque L'idea L'idea Non era male Comunque c'è La maledizione Ma c'è anche La parte in cui La vittima L'attore Quella che sta Per diventare Una vittima Deve Giocare Con Questa cosa E quindi È molto carina Molto divertente Molto interessante È Come questo film Faccia notare Che il gioco Popolare Obbligo verità Sia un gioco Di una Cattiveria Mostruosa Perché fondamentalmente Mette in luce Il male Che Che ci facciamo Con i nostri amici Quindi Le menzogne Che ci diciamo Anche quelle più Grosse Oppure Attraverso Gli obblighi Costringiamo I nostri amici A fare cose Umilianti Voglio parlare Solo di un'ultima cosa Anzi Due cose Partendo dal fatto Che secondo me L'effetto CGI Cioè Computer grafica Sulle facce Quindi Quando fanno Quella faccia Così Nel trailer Mi sembrava Un po' brutto Un po' Forzato Devo dire Che all'interno Del film Non l'ho trovato Così stucchevole Questo fa sempre Parte Di quel Discorso Del cercare Di non Andare A vedere Sempre L'errore Il difetto In tutte le cose Cioè anche quelle Meno importanti Si poteva fare Cento volte meglio Ma va bene E funzionale E funzionale Quello che Serve alla trama Ho letto Non so Guarda Non dico di chi è Perché non so Neanche di chi è Perché l'ho letta Non ho guardato Nel sito Chi fosse Nel L'autore Anche se era scritto Però non me le ricordo Però ho visto questa recensione Di obbligo verità Che era di una banalità Mostruosa Perché La distruggeva A destra marca Ma è chiaro Che distruggi Un film Così E ti metti a guardare La qualità Della sceneggiatura Bla 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 E poi i pregi Non vengono mai 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 Presi in considerazione Queste sono le tipiche recensioni Di chi È frustrato È infelice Non Non ha la minima idea Di cosa significa Mettersi nelle scarpe Degli altri Non fatevi Abbindolare Da chi distrugge I film E basta Perché Non sa fare altro Non sa fare film Non sa giudicarli Non sa trovare il bello Nelle cose Questo non significa Che Siamo di fronte A un capolavoro Assolutamente no Se me lo regalassero Lo infilerei Tranquillamente Nella mia collezione Di horror Quindi non lo butterei Dalla finestra E questo è già Un buon segno Questo era tutto Su Questo era tutto Su obbligo verità Obbligo verità Ah si Facciamo un gioco Si chiama Obbligo o verità Se scegliete Obbligo Iscrivetevi al canale Se scegliete verità Scrivete nei commenti Un film Horror Considerato da tutti Brutto Ma che a voi Piace tantissimo Ci vediamo Al prossimo video Ciao